women self vision oggi parliamo di smocele lo facciamo con la dottoressa serena girardelli specialista in ginecologia ed ostetricia all'ospedale san raffaele di milano per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale dottoressa che cos'è un ismocele perché ne parliamo in relazione al taglio cesareo allora l'ismocele ha un difetto di struttura della parete anteriore dell'utero che sia in quella zona dell'utero che viene incisa durante un taglio cesareo per consentire l'estrazione del feto che a quel punto da feto diventa neonato è un difetto perché quando non vi è una corretta chiusura rimane una leggera apertura che non vuol dire un'apertura completa ma quella che viene definita una tasca una nicchia infatti in inglese si chiama uterine pouch o niche in francese ha un po' la connotazione di una tasca ne parliamo in relazione al taglio cesareo ovviamente perché ne è una conseguenza non necessariamente una patologia e ne parliamo sempre di più perché ultimamente il numero di tagli cesarei sta aumentando quindi sono sempre di più le donne che si sottopongono a questo tipo di procedura per espletare un parto l'incidenza di questa patologia di questa condizione aumenta all'aumentare dei tagli cesarei a cui si sottopone può arrivare in alcune casistiche fino all'80-90% in chi arriva ad avere due o tre tagli cesarei e ce ne sono parecchie di donne che sono in queste condizioni. Ma è sempre presente dopo un taglio cesareo oppure no? Consideriamo che la diagnosi quindi dire se è presente o no è una diagnosi ecografica per cui diciamo può essere un riscontro casuale io sottopongo ad un'ecografia transvaginale di controllo una paziente che ha avuto un taglio cesareo in passato e posso notare la presenza di questa nicchia. Qualora la paziente non riferisse dei sintomi in relazione a questa nicchia si chiama riscontro casuale e non è necessario agire sulla base di questo riscontro. Se invece riferisce dei sintomi che sono tendenzialmente dei dolori pelvici o un sanguinamento uterino anomalo quindi perdite ematiche non in corrispondenza della mestruazione posso pensare di proporre un trattamento. Altra possibile complicanza è quella di un'infertilità che si definisce secondaria perché ovviamente la paziente ha già avuto una gravidanza ma la presenza di questa nicchia crea un microambiente infiammatorio che impedisce un corretto impianto di una gravidanza in utero. Le ha parlato di trattamento cosa si intende? Quindi avendo candidato la paziente al trattamento quindi avendo considerato un istmocele sintomatico possiamo pensare di proporre alla paziente delle strategie terapeutiche nella forma di alcune procedure chirurgiche. Generalmente se la paziente ha esaurito il proprio desiderio riproduttivo l'approccio che si propone è un approccio isteroscopico in cui più che andare a correggere l'istmocele si va a rimodellare. Non ho più quella tasca dove si accumula il sangue che poi è quello che può dare problemi e dolori. Ovviamente la parete rimodellando la tasca non si va espessendo ma si va un pochino appiattendo però risolvo la problematica alla paziente. Invece per quanto riguarda una correzione che mi possa consentire una seconda o terza gravidanza seconda dei casi in serenità ho bisogno di un approccio più invasivo. Tradizionalmente l'apparoscopico e l'apparotomico attualmente esiste un approccio transvaginale per cui mi consente di essere meno invasivo per la paziente pur consentendo una corretta rafforzamento della parete onterina anteriore e quindi la possibilità di avere una seconda o terza gravidanza in serenità. Quali rischi se non venisse correttamente trattato? A parte il mantenimento di quei sintomi di cui abbiamo già parlato quindi la paziente lamenta i sintomi non la correggo chirurgicamente e continuerà a lamentarli. È possibile in istomo cieli che mantengano un microambiente infiammatorio nel tempo perché è anche possibile una risoluzione che questi possano predisporre ad un impianto anomalo di una gravidanza. C'è un'entità che in inglese si chiama score pregnancy che comporta l'impianto della gravidanza proprio a livello della cicatrice uterina. Questo può dar luogo a dolore, alla necessità di un intervento chirurgico, nel peggiore dei casi proprio delle emorragie interne quando l'utero va erodendosi dove si impianta in maniera anomala la placenta. Esiste un modo per prevenirlo? Dobbiamo tornare all'embriologia dell'istomo cieli quindi a come si fa il taglio cesareo. Ovviamente l'incisione è abbastanza standard. Per quanto riguarda la chiusura e si chiama isterografia in gergo tecnico, è importante affidarsi a dei professionisti che sappiano chiudere l'utero al meglio, detto con parole povere, e essere sicuri che siano correttamente apposti il lembo inferiore e il lembo superiore della cicatrice uterina così da rafforzare al meglio la zona che è stata incisa per espletare il parto. Grazie dottoressa Gerardelli, grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Women's Self Vision. Per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti.